Prendere via il prossimo mercoledì 21 marzo il ciclo di conferenze Cittadino a quattro zampe realizzato dall'Associazione Cinofila di Protezione Civile di Iade e dal Centro Cinofilo Città di Verona. Iniziativa illustrata stamani dagli assessori Padovani e Sbuarina, calendario che prevede tre incontri all'ingresso gratuito alla terza circoscrizione in via Bonelleschi, quindi alla palazzina del parco Carmagnola a Cavitabili e infine alla sala Tommasoli in Borgo Saltacroce.